Allora ragazzi, siamo a prima, ragazzi, un piccolo vittor, guardate che roba. Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale, finalmente è arrivato agosto e stiamo partendo per la Croazia. Allora, stiamo partendo per le vacanze di Isola di Kjork in Croazia, andremo ovviamente in moto, staremo lì una settimana. Bene, il biglietto è al sicuro, un po' bagnatto. Speriamo un attimo, perché la forza seduta di Giovanni a Fina Calva sono rimasti indietro. Ma noi siamo in dovevo vivere! Ah, la Porsche! Adesso siamo usciti dall'autostrada, siamo quasi a Trieste, qua è il mare, che roba! Ecco, qui sullo sfondo, qui vedete il castello di Milamare. Fa caldissimo, siamo arrivati qui al castello di Milamare, siamo qui tutti quanti con le moto, adesso un po' di immagini col drone e poi ripartiamo sullo sfondo al mare e ci vedremo in Slovenia. Qui i ragazzi che si riposano, che disfatta! Grazie mille, grazie mille! volevamo fermarci qui al mangiare al porkies che appena dopo il confine la slovenia però purtroppo sembra che sia chiuso facevano del pullet pork i panini un po di tutto diciamo maionci qua ragazzi abbiamo mangiato il maialino 20 euro con un po di verdure patate spinaci eccetera qui le moto e tra poco partiremo gogliamoci lo spettacolo si riparte adesso due ore di strada perché ci sono gli incidenti sul percorso e si vola abbiamo passato la dogana solvenia croazia e siamo ora in croazia 26 euro centri sono veramente eufanico porto si rieca guardate che imponente il porto ma quella è una nave carica di container guardate che roba guardate che spettacolo quella all'isola di kirk il pedaggio per il ponte sul isola di kirk non è più a pagamento ma sicuramente siamo appena arrivati sull'isola di kirk abbiamo appena fatto il ponte un po di paesaggio spettacolare adesso ci dirigiamo verso Malinska e ci vediamo nella nostra location per queste vacanze a metà isola sulla costa ovest c'è la città principale dell'isola di kirk appunto la città di kirk è una città storica dove ogni anno viene organizzata la fiera di kirk ora siamo arrivati e abbiamo un ampio parcheggio per le moto all'esterno qui c'è Giovanni Aguila Calva una piccola area esterna con un fornino stendino un bel divanetto lì qui entriamo nell'appartamento living room con tavolino un po' piccolo doppio divano televisione però non ci interessa qualche mobiletto fornello forno macchinetta del caffè con le cialde incluse Fera porta dentro il suo bagaglio adesso saliamo le scale ci sono gli altri due letti un letto singolo e un letto matrimonio un'altra televisione qui però non ci interessa freschissimo condizionatore in camera fortissimo visuale dall'alto ecco qua il bagno con lavatrice lavandino piccolino purtroppo boiler specchio gabinetto una doccia bella piccola come piace a me carta igienica per tutti e poi vediamo cosa c'è qui c'è qui ciao